Bene, ciao a tutti! Questo è un mini video esplicativo per mostrarvi come dovete o potete realizzare la vostra clip per la videodedica a Claudio per quanto riguarda gli amici di Claudio e a Bri per quanto riguarda gli amici di Bli Tutto quello che vi occorre è un pennarello Questo è un flauto Un pennarello Possiamo fare Un pennarello Eccolo qua E dei fogli di carta Eccoli qua Prendete il pennarello e scrivete il vostro pensiero per quella volta che Scrivete e divertitevi a registrare la vostra clip Potete scegliere se girarla in esterno, in interno, di notte, di giorno Scegliete un posto Molti ragazzi vivono all'estero Alessio o Aldo lo possono girare dal Brasile C'è Fabio ad Almati I ragazzi di Bologna Magari potete scegliere un luogo caratteristico Vi portate i fogli che preparate a casa e fate la clip Mi consegnate tutto il materiale e io monterò il tutto Potete scegliere se farlo con macchina a mano In questo modo qua Vi faccio vedere qualche esempio giusto per capirci meglio Ok? Bye Oppure scegliere di fare con macchina fissa Questa affare è del tutto inutile Già, come quella sveglia palestinese Bene ragazzi Spero che tutto sia chiaro A fine video troverai dei riferimenti per mandarvi tutte le clip Per fargli sentire la vicinanza degli amici Anche nonostante la distanza Che comunque pesa Questo è il nostro regalo a Claudio e Bri Chi vuole partecipare Bastano tre minuti E il piacere di farlo Mi raccomando vi aspetto Ciao 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 Ciao